È arrivata l'ufficialità del rinnovo, quali le tue sensazioni? Le tue sensazioni? Felicità e tanto lavoro che mi aspetta e che comunque conosco già l'ambiente, la piazza, so quello che si aspettano da noi. Sono carico ed emozionato come il primo giorno che sono arrivato qui a Bari. L'anno scorso è il primo anno di Serie B, tante volte anche la fascia da capitano, ti senti un po' più responsabilizzato? Sì, già dal secondo anno penso che qualche responsabilità in più l'hanno data e credo che qualcosa di buono l'abbiamo fatto finora. Sono contento di quello che abbiamo fatto e ripartiamo dall'anno scorso, dalle nostre certezze, dalla nostra splendida città, dalla nostra piazza e dai nostri tifosi. Per te è stato un anno importante professionalmente e anche umanamente? Sì, sì, vabbè. Diciamo che sono arrivato qui a Bari che ero ragazzino e adesso ho qualche responsabilità in più. Mi sono sposato, ho una bimba e sono molto felice di dare continuità in questa splendida città e non vedo l'ora di iniziare il campionato. Che cosa rappresenta per te Bari dentro e fuori dal campo? Bari dentro il campo vorrei vedere ogni settimana i 60.000 dell'ultima partita. Spero di riuscire a riportarli come abbiamo fatto l'anno scorso e regalare magari la gioia che tutti noi volevamo. Quindi Bari è tutto in casa e sono veramente felice di continuare in questa città. Grazie.